Amici e amiche di Kenobisboc, io sono Kenobit, qua sopra di me a Trieste c'è un Andrea Babic, sotto di me a Roma c'è un Lorenzo Ceccotti e questa è la prima serata ufficiale di Kenobisboc Aesthetics, il nostro percorso sulla storia dell'arte del videogioco. Questa sera cercheremo di darvi gli strumenti per interpretare tutti i concetti che affronteremo nell'arco di questo percorso e lo faremo partendo dagli albori, ma dagli albori albori e anche dai concetti. E quindi su questo lascio la parola a Lorenzo Ceccotti. Ciao Lorenzo. Ciao Fabio. Allora dunque, sì, diciamo che io credo che ci troviamo in un momento storico bello, che è quello, oggi discutevamo di letteratura greca e latina e di come oggi leggiamo l'architettura, così io ho la fortuna di vivere a Roma e quindi vedo di continuo questi oggetti che stanno lì piazzati, i fori imperiali e diamo per buono che sono delle robe che arrivano da una civiltà antica, però non abbiamo mai avuto modo di vederli in funzione nelle loro, per come sono stati pensati, ci dobbiamo un po' fidare del fatto che funzionavano in un certo modo. Tempo dietro ho visto la tesi di Laurea di una persona che ha fatto questo parallelismo molto interessante, fra i monumenti antichi dell'era classica e la pixel art, perché spiegava questa cosa, cioè lei si interrogava, era una ragazza, si interrogava sul fatto che, di cui non ricordo il nome vorrei morire, per questo però lo ricordiamo per il suo lavoro eccezionale. Magari metteremo il link sotto, scriveremo il nome in descrizione se ce lo ricordiamo. Esatto, comunque sì, era interessante perché partiva da, no è solo per dire che non è assolutamente farina nel mio sacco, e ci tengo a dirla questa cosa, però ecco mi aveva molto colpito il suo ragionamento, che era quello di dire, ok, noi oggi parliamo di pixel art, e sulla bocca di tutti ci sono tutte le nuove generazioni di videogiochi indie che prendono il pixel come punto di riferimento, c'è il retro gaming, c'è tutta una serie di cose che ci permettono di fare ricerca e preservazione di tutte queste robe qui, però la verità è che le nuove generazioni che non hanno mai avuto modo di vedere l'esordio della grafica nei videogiochi, ovvero la pixel art in funzione del loro momento storico e della loro condizione tecnologica e culturale, la devono prendere un po' per buona, e infatti hanno una visione un po' astratta, ad esempio per dire dell'idea del pixel, dell'idea di come funziona un progetto grafico all'interno di limiti così stringenti, che oggi sono lontanissimi dalle possibilità, invece che sono nelle mani dei nuovi creativi di videogiochi, quindi si interrogava appunto su questa cosa qua. Ecco, diciamo in un certo senso la parte divertente di questo momento storico, iniziava da lì, è che noi effettivamente a differenza di quelli che studiano l'architettura dell'antica Roma e che la studiano tuttora, gli esordi li abbiamo visti, e quindi possiamo fare un discorso interessante, che è quello di portare alle nuove generazioni un po' di informazioni che sono tutt'altro che scontate sull'argomento. E quindi, dovendone parlare di estetica di videogiochi, con un occhio di riguardo ovviamente alla storia dei videogiochi, è fondamentale, a mio avviso, affrontare l'argomento partendo da quelli che sono i fondamentali, cioè la struttura fondante di perché i videogiochi sono fatti così, da dove viene la grafica pixel, la pixel art, e poi come si evolverà nelle forme attuali. Spero, insomma, di non essermi conto. No, no, mi sembra una premessa cristallina. Mi sembra una premessa cristallina. Ora, siccome noi vogliamo essere veramente radicali, dobbiamo prima di tutto affrontare la natura intima della grafica dei primissimi videogiochi e per fare questo tipo di ragionamento dobbiamo analizzare come funziona il supporto fisico su cui queste immagini dei videogiochi venivano visualizzate, che è il tubo catodico. Ora, pochissimi di voi, credo nessuno in questa chat, mi permetto di dirlo, ma magari se c'è qualcuno invece alzi la mano. Io non lo sapevo, io non lo sapevo. Poi lo interrogo per vedere se lo sa veramente. Pochissimi sapranno che i tubi CRT, catode ray tube, quindi i tubi catodici, sono una evoluzione di un dispositivo meccanico. Cioè i televisori, prima di essere una roba che si basava su un sistema elettronico di trasmissioni, di segnali luminosi su uno schermo di fosfori, funzionavano con un sistema meccanico, cioè con un disco rotazionale che occludeva con una logica molto simile tutto sommato a quella di tubi catodici più recenti, quindi sono basati sul tubo catodico. Appunto, si basano su questo disco, come vi sta facendo vedere Fabio, un disco che ruotava e occludeva con dei puntini disposti con un pattern molto preciso una luce, un segnale luminoso, creando quindi questo effetto di immagini in successione tramite un principio che è quello della persistenza retinica. Non diversamente da come funziona il fotogramma intero del cinema, però applicato su degli elementi puntiformi disposti su delle righe. Queste righe, che sono disposte verticalmente perché il cerchio gira con un asse di rotazione che è al lato dello schermo, ricordano molto da vicino le nostre amatissime scanline. Le scanline sono infatti un'evoluzione lineare di questo approccio la composizione e la trasmissione di immagini su uno schermo. Prima di tutto una cosa interessantissima degli schermi in generale, cioè perché sono fichissimi gli schermi che siano meccanici, topocatodico, che siano anche per proiezione o anche lo schermo del cinema, perché è un primissimo supporto che offre la possibilità di trasferire delle immagini visive sequenziali all'interno dello stesso campo. Cioè ad esempio perché noi quando leggiamo un fumetto, se ci dobbiamo spostare da un'informazione all'altra nel tempo, lo facciamo spostandoci nello spazio di una pagina. Invece quando noi abbiamo a disposizione uno schermo, quello che succede è che abbiamo una serie di immagini in sequenza che avvengono una dietro l'altra all'interno dello stesso campo che si aggiorna completamente. Ora, il televisore meccanico si aggiorna rotazionalmente, il tubo catodico invece, come stiamo vedendo in questo video che sta gentilmente agevolando il dottor Bortolotti, avviene tramite una scrittura lineare di un fascio di elettroni che viene proiettato da un cannone, che si chiama letteralmente cannone, e che si sposta su una griglia di colonne verticali orizzontali nello spazio perfettamente temporizzato e illumina diciamo la superficie di una specie di bolla di vetro che è trattata con dei fosfori che si eccitano con questi fasci di elettroni, si illuminano progressivamente e tramite la memoria luminosa di questo fosforo abbiamo l'impresa che questa cosa avviene molto rapidamente dall'alto verso il basso e abbiamo la sensazione di vedere un'immagine completa a schermo. Questa cosa avviene con un aggiornamento che ha a che fare con la frequenza della corrente elettrica, non è un caso che tutti i giocatori della mia generazione, italiani soprattutto, hanno sofferto il fatto di essere nati dalla parte del mondo in cui la corrente elettrica va a 50 Hz invece che a 60 Hz, ovvero fa su e giù 50 volte al secondo invece di 60, come avviene ad esempio per dire in Giappone e in America, che poi non sono proprio esattamente distanti. Gli spiegati avevamo noi e gli australiani. Esattamente. Ora, quello che è interessante è che questa oscillazione è quella che regola proprio l'andare su e giù del cannone del tubo catodico e questa persistenza fluorescente è quella che garantisce appunto la persistenza dell'immagine. Tra parentesi, non so se avete mai avuto un tubo catodico a disposizione e avete mai provato questa esperienza un po' spettrale di spegnere un tubo catodico in una stanza perfettamente buia e vi accorgerete che quel tubo catodico rimarrà leggermente visibile ancora per un po', ma per tanto tempo, potrebbe stare, come dire, rimarrà questa specie di fantasmino grigino sull'immagine anche per minuti dopo averlo spento. Questo è perché il fosforo ha un decadimento che è molto lungo in realtà. Il momento in cui però è interessante è quando è perfettamente citato e quindi mostra tutti i parametri luminosi come servono per la percezione di un'immagine. Quindi capiamo quindi due cose fondamentali. Uno quindi che il tubo catodico si basa quindi su questo cannone che disegna le immagini e che è solo un'illusione in quella di vedere il fotogramma intero perché la verità è che viene acceso realmente solo un pixel per volta da in alto a sinistra in basso a destra e che questo tipo di grafica si chiama raster che è un termine che avete sentito utilizzare in un sacco di occasioni proprio perché raster vuol dire è una parola tedesca che viene in realtà poi dal latino radere e che significa esattamente griglia. Ok? Tra l'altro tra l'altro noi abbiamo nel team di Kenobi's Boch c'è Bellotta e Bellotta un paio di annetti fa aveva proprio dedicato un'intera puntata da fisico in cui spiegava il funzionamento dei dei tubi catodici che sono di fatto letteralmente degli acceleratori di particelle per certi versi sono proprio una tecnologia fighissima in qualsiasi modo la guardi quindi magari se Combo Completa sa dov'è quel video magari lo possiamo linkare come dispensa perché non ci saranno link ci saranno dispense esattamente ora quello che è interessantissimo però è che per una questione proprio di standard noi ci siamo sposati questo modo di usare il tubo catodico però non è l'unico non è l'unico perché i tubi catodici in realtà sono in grado anche di produrre delle immagini che non sono su una griglia di riferimento la griglia di riferimento ci permette di fare una serie di cose molto interessanti ad esempio di dividere la superficie con i fosfori con delle maschere colorate che ci permettono di avere ad esempio più colori all'interno della superficie che viene eccitata cioè colori in buona sostanza sono non sono nel raggio luminoso ma sono nella griglia su cui viene proiettata questa voce dei filtri ok alla fine che si stiamo parlando di bianco e nero ovviamente esattamente il cannone in bianco e nero può essere alterato con dei filtri un po' come succede per certi versi anche ancora oggi con gli LCD che hanno un emettitore monocromatico che viene filtrato dai vari pass all'interno degli schermi nei cd però quello che mi sembra invece rilevantissimo è il fatto che la nascita del tubo catodico all'inizio apre a tutta un'altra serie di modi di utilizzare il tubo catodico uno su tutti e quella che ho visto riportata delle volte non l'ho mai più ritrovata come definizione tempo addietro ho letto un libro che la riportava definita come drive deflection ovvero con un sistema per cui il tubo catodico invece di seguire un pattern fisso in alto a sinistra a destra viene lasciato libero di disegnare delle forme seguendo dei principi matematici geometrici quindi con discorsi di curve libere e questo significa di disegnare delle forme senza il limite del pixel quindi a risoluzione infinita con una funzione continua quindi completamente analogica da un punto di vista di rendering dell'immagine ed è la tecnica di disegno vettoriale invece il display vettoriale ora i videogiochi sono interessantissimi da questo punto di vista perché alla loro nascita cioè proprio al day one del videogioco che vogliamo diciamo un po' arbitrariamente ai fini del nostro discorso semplificare con il passaggio dalle prime macchine elettromeccaniche che hanno come dire del video dentro ma che non sono ancora propriamente videogiochi nel senso moderno nascono con due anime ben distinte che sono i videogiochi che fanno uso di un tubo catodico in chiave vettoriale ad esempio i videogiochi dell'Atari Asteroids o Lunarlander sono esempio i primi due che sono usciti se non dico boiate e dall'altra parte invece Space Invaders per Taito in Giappone che è il primo videogioco propriamente detto raster ok e come videogioco raster è interessante perché in realtà è osmotico nei confronti di tutti quei ovvero ingloba ok una parte ancora della tradizione delle macchine elettromeccaniche perché poi come vedremo questo schermo raster utilizzato in una maniera comunque singolare cioè utilizzando sistemi di trasmissione dell'immagine ottica tramite uno specchio delle retroilluminazioni quindi noi abbiamo un'idea di Space Invaders emulato che è quella roba bianca e nera ma nella sua versione fisica somiglia proprio all'immagine che si vede dietro all'E-flat che è appostato adesso a schermo Fabio tanto che se vuoi abbiamo anche direttamente un bel video allora in realtà noi abbiamo avuto oggi neanche a farlo apposta Marco Vernillo ci ha mostrato molto nel dettaglio potete recuperare il video di oggi ci ha mostrato nel dettaglio un un Vectrex e anche svariati svariati giochi svariati giochi vettoriali Marco Vernillo ha anche uno Space Invaders ma noi abbiamo qua un video che lo mostra molto bene perché appunto potremmo quasi lasciarlo sotto mentre ne parliamo sì c'è anche il fatto che anche nel MAME volendole qui puoi mettere i Bezel puoi mettere le Petrofenie puoi mettere gli Overlay ma c'è anche un discorso di prospettiva e di quinte e di un particolare effetto che lo specchio dava a questo insieme quindi comunque è pazzesco sì no c'è un'idea comunque di illusione ottica che va completamente persa no c'è questa idea che gli alieni e i personaggi l'astronave le basi eccetera sembrassero quasi dei fantasmini sospesi diciamo fra il giocatore e il background quindi non sono proprio nemmeno lontanamente paragonabili Space Invaders sono di quei rarissimi giochi che bisogna vederlo dal vivo per capire veramente che effetto faceva questo è un esempio fenomenale del discorso che facevi prima sul Colosseo l'arte antica e la pixel art che noi sappiamo possiamo immaginare ci sono stati ci sono dei documenti che ci dicono che le statue sono come le statue è come le statue bianche esattamente per noi le statue greche sono bianche tutte così in realtà adesso sappiamo che adesso sappiamo da molto tempo che erano dipinte però noi non lo sappiamo com'erano e nulla come i cabinati dei primissimi anni e questo lo quando organizzeremo delle gite nella sala di Marco Vernillo lo potrete venire lo potrete vedere perfettamente perché sì tu lo puoi emulare con il mame mettendoci gli overlay eccetera ma c'è un effetto proprio ottico di di sospensione da figurati da Marco Vernillo c'è anche quel oddio race qualcosa non mi viene in mente che addirittura sfrutta una black light per questo effetto sospeso dai Babic come si chiama è quella è quella specie di è vettoriale con una un rettangolo in mezzo sul quale rimbalzi o un vuoto totale non è Omega Race grazie Omega Race scusami comunque in questo fotogramma si vede abbastanza bene come era Space Invader se vai più avanti a metà se non sbaglio c'è proprio la partita e ti vedi il full screen diciamo di come sono blendate le immagini è interessante perché c'è un po' dell'effetto luminescente in azione comunque ora perché è interessante analizzare queste due realtà perché queste due realtà impongono ai creativi che devono creare l'estetica di questi videogiochi delle limitazioni che sono completamente diverse ok e da queste limitazioni quando andremo a vedere poi i giochi in funzione ci accorgeremo che nascono proprio delle soluzioni estetiche talmente diverse dei linguaggi talmente differenti che non possiamo non prenderli in considerazione e non solo da un punto di vista grafico anche da un punto di vista delle animazioni ad esempio una roba che potrebbe essere già interessante da dire visto che stiamo vedendo il gioco in funzione che lo vedete come si spostano gli alieni gli alieni si spostano non contemporaneamente tutti quanti questo perché la macchina Speed Invaders aveva una parte diciamo video che era in grado di aggiornare una piccola porzione di schermo alla volta e quindi ogni retrace verticale dello schermo veniva spostato un alieno soltanto ed è il motivo per cui gli alieni possono andare veloci solo quando sono pochi perché quando sono pochi diciamo occupano meno cicli video di retrace tra l'altro si ho scoperto una cosa divertente studiando Space Invaders che quando arrivano alla velocità massima ovvero quando rimane un alieno soltanto un alieno soltanto ha a disposizione quindi due retrace scusa chiedo scusa si muove a due pixel a retrace quindi va velocissimo e e quello che è interessantissimo è che però la Taito sono stati infamissimi perché hanno fatto che quando va verso sinistra va a due pixel per retrace quando torna indietro va a tre in maniera tale che è un po' più difficile prendere le misure di dove sta che infamia la trovo una cosa cattivissima veramente bellissima quindi ecco trovo sia molto interessante il fatto che già ad esempio per dire anche la natura di come si spostano gli alieni all'interno di questo gioco è data proprio dalla natura anche del tubo catodico stesso che ha questa velocità di aggiornamento che regola lo spostamento degli alieni a schermo stando chiaramente all'interno dei limiti visivi ho i limiti visivi che erano abbastanza marcati perché Space Invaders secondo me è proprio interessante come gioco da analizzare perché i limiti sono i seguenti allora loro potevano proiettare una luce monocromatica bianca quindi quella parte che vedete sotto verde è una parte che poi si vede solo ogni tanto con una strescia in alto arancione ecco vedete l'alieno che passa sopra adesso è arancione sono dati da degli overlay fisici cioè fisicamente sul display sono attaccati degli adesivi trasparenti uno verde un arancione che colorano quella zona dello schermo te ne accorgi dal fatto che quando spari il proiettile nella parte bassa dello schermo è verde poi diventa bianco e quando esce fuori dallo schermo diventa arancione infatti se lo guardate così adesso ve lo sto mostrando come viene emulato senza filtri aggiunte dal MAME questo è quello che sta proiettando lo schermo cioè lo schermo ha questo tutto quello che vedete qua sopra invece è illusione o meglio sono letteralmente delle fasce colorate applicate allo schermo che poi in questo caso c'è anche il discorso del riflesso sullo specchio ecco sono rosso non è vero sono rosso e bianco e verdi non c'entra niente ma lo dico lo stesso che l'8080 quindi il processore di space in verde è il capo progetto non quello che ho disegnato ma il promotore del progetto dell'8080 è comunque federico faggine quello che poi avrebbe fatto lo z80 quindi è una cosa che ho scoperto poi è un giapponese quello che ha fatto effettivamente il progetto insieme a un altro che era l'architetto però sì comunque c'è faggine che lavorava intel dentro già all'epoca ma dai fighissimo mamma mia leggenda vera leggenda vera e io trovo che un'altra cosa interessantissima è il fatto che space invaders ha un un rapporto di una pulizia spaventosa fra la natura digitale della grafica appunto che ci mostra questi alieni che sono bianchi e neri prima di tutto perché è digitale binario autentico i pixel sono o bianchi o neri e la cosa interessantissima è che lo spazio di memoria occupato di ognuno di questi alieni è perfettamente conforme alla natura binaria delle informazioni cioè occupavano dei blocchi di memoria esatti cioè sono quasi occupano uno slot fisico sono quasi sono a un passo dall'essere fisicamente rappresentati all'interno delle eporom del gioco quindi c'è un rapporto meraviglioso dello spazio occupato dai fotogrammi di animazione dei personaggi e il loro aspetto visivo quindi è una purezza che poi probabilmente non c'è stata penso mai più in nessun altro videogioco una roba fantastica ora una cosa che mi sento di dire è che ovviamente noi guardando un gioco come Space Invaders ci vediamo tutta una serie di cose che poi saranno no? ah per tutto una cosa che mi interessa tantissimo è questa forse farei un'atappa su photoshop ma aspetta che mi scarico prima un'immagine di di un alieno nel frattempo noi ringraziamo chiacchiere da pub che ci sta raidando con altri otto utenti siamo qua su twitch questo è Kenobi's Boch aesthetics un percorso di storia dell'arte del videogioco stiamo cercando di analizzare gli albori dei videogiochi trattandoli con tutta la dignità che meritano che è quella del fare un ragionamento di lo stesso ragionamento che faremmo con l'arte tradizionale questo perché sempre di arte si tratta io sono Kenobi qua sopra c'è Andrea Babic e sotto c'è Lorenzo Ceccotti in arte LRNZ devo trovare uno screenshot che non sia stato violentato e strecciato mamma mia allora questa è una scusami linea comica se c'è una roba che io e Babic abbiamo sempre tenuto a fare anche nelle cose minuscole abbiamo sempre preso gli screenshot giusti cioè niente fa piangere Gesù Bambino più di uno screenshot strecciato e c'è ma io feci feci comparino l'enciclopedia su quello dei videogiochi che hai lavorato ovviamente anche tu Fabio e Danilo e tantissima gente e quelli di Pannini non capivano perché io gli dicevo guardate attenzione la pixel ratio deve essere di ma scusa mi hai dato immagine 256 per 224 questo vuol dire la pixel ratio cioè 256 no perché lo schermo deve essere spalmata su 4 terzi quindi moltiplicate la per questo non ha senso perché guardavano su internet e l'immagine che vedevano era 256 per 224 quindi non gliene faccio una colpa non era non era la loro scimmia il videogioco o anche quando tu gli davi le immagini in 240 e loro dicevano ma questa è troppo piccola non si può pubblicare viene tutta sfoccata dice viene sfoccata quante volte quante volte abbiamo pronunciato la parola nearest neighbor in quel periodo lì esattamente la parola sacra nearest neighbor tra l'altro è mistico il vicino più il vicino più vicino il vicino più prossimo esattamente un secondo solo arrivo subito voi intanto aiutate allora Zavarra dice parla ma quindi le versioni Space Invaders e le sue compressioni per MSX sono più pulite di quell'arcade allora ci sarebbe tutto un discorso molto ampio da aprire e in realtà sappi che in una delle delle prossime puntate allora questa sera siamo strettamente in ambito arcade perché è letteralmente lì che nascono i videogiochi settimana cioè settimana prossima o comunque la prossima puntata di Kenobi's Botch Aesthetics verterà anche sul mondo domestico sul mondo dei computer e quindi inevitabilmente avremo a che fare anche con il concetto di conversione che è tutto un paio di maniche incredibile con un sacco di complessità e con un sacco di sfaccettature che sono di fatto un altro layer di tecnologia che si sovrappone stiamo parlando di un'evoluzione tecnologica del medium e però lì c'erano letteralmente due evoluzioni parallele una era la tecnologia da sala giochi che era una tecnologia decisamente all'avanguardia con delle macchine che potevano avere il lusso di essere molto costose molto costose mentre invece per la tecnologia domestica per quelle che erano le console i premium computer erano c'erano dei compromessi molto più grandi dovuti al fatto che vai vai no sì assolutamente cerco di dire che poi l'oggetto con versione di Space Invaders per MSX è a sua volta un oggetto con le sue proprietà anche visive già il fatto di non avere lo specchio al di là degli overlay al di là delle quinte tutto è un altro oggetto con un'altra grana data da come l'MSX si vedeva sul televisore in RF in composito quindi sono diversi diversi pieni diverse dignità poi questo è un altro discorso si potrebbe fare puntate su puntate su conversioni e che cosa ci portano e dove ci portano dove ci portano esattamente veramente dove ci portano comunque direi tutto mentre mentre lei si cerca ok hai trovato hai trovato l'espressione del primo genio e a me colpisce tanto quello che dice quando dice cioè prima sta roba non ci è facile adesso dire ah vabbè da qui è partito tutto ma prima sta roba non c'era sì c'era Space War c'erano degli archetipi di sparo a cose ma qui anche narrativamente parlando tematicamente parlando abbiamo una 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 violenza inaudita cioè un esercito contro un'astronave è un esatto un topos una potenza visiva unica che che se Nishikado dice che se l'è sognata questa cosa che ha fatto un sogno con i Kajiu con i Polipi con le robe non sappiamo mai se è vero come la pizza dei Tori Watani dei Pac-Man sembra che qualcuno gli ha detto racconta una cosa che capiscono a me mi fa strano i Watani però bene ora no perché è interessante questa roba della binarietà perché effettivamente qua abbiamo dei pixel che possono stare questa adesso che stiamo vedendo è la griglia la pixel grid di Photoshop la ingrandisco un po' così almeno un po' meno fitta soprattutto vi riuscite a vedere bene perché non so quanto riuscite a vedere grande tutto quanto è interessante il fatto che quando noi andiamo a dover prendere delle scelte di carattere artistico con questo tipo di materia prima ok che sono immagini a un bit un bit è un gate logico che ci può dare due risultati 0 e 1 ok è un binary digit ok quindi tecnicamente parlando è una cifra a due posizioni ok in questo caso bianco nero e e abbiamo anche una griglia raster che è questa griglia che vedete vedete che è fatta di quadratini tutti disposti in righe e colonne noi possiamo un pixel lo possiamo mettere o qui o qui non lo possiamo mettere qua in mezzo ok adesso noi riusciamo a vedere questa la posizione del mio cursore no a metà strada perché il mio schermo è a 4k c'è un sacco di pixel fra questo e questo in realtà ok però invece quando si lavorava all'epoca con con le macchine che avevano a disposizione i creativi space invaders loro dovevano effettivamente scegliere i pixel dove sarebbero andati a finire e quello che è molto interessante è che questa griglia a quadretti che state vedendo non è dissimile dai fogli a quadretti su cui questi alieni sono stati pensati perché non è che lavoravano su Photoshop o su Aseprite o su Promotion lavoravano bytecode inserendo numericamente i valori dei pixel sulla griglia creando gli sprite schiandosi direttamente la video memory con una sequenza di valori di 1 e di 0 ok ok e quello che è molto interessante è vedere che questo sprite che visto da una distanza comincia a farci sentire quasi dei tentacoli degli elementi che hanno una loro figuratività degli occhietti una struttura simmetrica che ricorda un po' un animaletto o una seppia gigante quello che è sono stravolti anche se semplicemente mettiamo un pixel fuori posto gli sparisce un occhio questa roba non diventa più pulita e chiara come era prima basta aggiungere un pixel di troppo in una di queste immagini per avere un risultato completamente diverso ad esempio per dire questo UFO ha una scelta coraggiosissima cioè il fatto che è perfettamente simmetrico ma non ha un pixel pari al centro questa cosa qua è un problema perché se avesse avuto un pixel pari al centro noi non potevamo avere una finestra perfettamente centrale erano optato per questa struttura per cui qui al centro non c'è nulla c'è una roba doppia infatti per due questo tipo di soluzioni sono obbligate dai tipi di limiti che avevano gli autori ad esempio questo stavo analizzando prima questo alienetto di Space Invaders addirittura è 8x8 pixel quindi ha delle proprietà magiche sicuramente da un punto di vista di ordine nella Videomemory sicuramente diciamo se ne stava bello paro nel suo slottino di destinazione è proprio grande come un carattere quindi insomma queste sono delle cose che sono particolarmente interessanti se pensiamo che da questa logica qui poi scaturirà tutto quello che è la grafica contemporanea dei videogiochi anche per dire analizzare la tipografia di questo videogioco analizzare come sono stati come sono state risolte per la prima volta delle informazioni scritte che devono convivere con la grafica del gioco è super interessante vedere anche per dire l'altezza del carattere che è stato scelto perché fosse massimamente leggibile senza che ci fossero troppi casini un pixel così grande una risoluzione così bassa un così basso numero di di colori ovvero due impone il fatto che ad esempio per dire per rappresentare lettere come la S la M come dire sono necessari degli spazi minimi quindi anche lo spazio a disposizione per scrivere diventa di meno cioè si creano veramente 100.000 limitazioni e questo aspetto finale che vediamo del gioco è da un lato chiaramente il frutto di grandissima creatività ma una creatività che aveva un binario veramente con pochissime scelte a disposizione sì e tra l'altro a me fa fa impazzire perché quando se tu provi io quando ho fatto il logo di Kenobi's Bosch che vedete qua in basso a destra di fatto rubando rubando il logo di Konami e cambiando un po' di cose proprio vedevo come ok qua c'è una risposta esatta e qua c'è una risposta sbagliata cioè il binario in cui ti trovi rende veramente è una guida è una guida per la creatività da un lato una limitazione dall'altro una guida e questo contrasto tra limitazione e stimolo per la creatività è una costante che vedremo in tutta l'evoluzione dei giochi degli albori e anzi sarà radicalmente importante questa cosa è interessantissima guardate questo è un quadrato 8x8 ora loro avevano bisogno di mettere gli occhi agli alieni e torno al discorso del pari e del dispari ovviamente se tu hai due occhi da mettere dentro una roba 8x8 come dire le opzioni sono veramente poche perché o ti tieni il centro della testa pari e già qua siamo siamo dentro un limite evidente pensiamo ad esempio al tamagoshi se non sbaglio uno stato iniziale che era una roba del genere ma è proprio perché con un 8x8 non puoi fare diversi e anche quella era grafica un bit anche quella del tamagoshi era grafica un bit grafica un bit cioè se io qua gli occhi li sprendo e li sposto in qualunque altra posizione li metto e non sono al centro della testa cioè li posso mettere qua che sono strani sono attaccati al bordo oppure nel momento in cui già non sono attaccati al bordo sono costretto a una struttura al limite non simmetrica di come ne so uno sta qua e uno sta qua però le posizioni non sono 100 sono 3 però poi c'è la percezione perché così io ci vedo una testa girata verso sinistra stai comunicando una cosa non neutra quindi avresti bisogno di più frame perché dici vabbè ma qual è il frame neutro se questo guarda esattamente esattamente quindi come dire i limiti sono enormi e pensare che loro ad esempio hanno sviluppato anche delle strategie che sono veramente già molto coraggiose cioè questa roba di questa specie di ordered detailing ovvero pixel si pixel no diciamo nel colore perché questa roba di disegnare pixel si pixel no lungo la diagonale del pixel è una roba come dire già estremamente coraggiosa è interessante perché ci disegna questa specie di due tentacolini e la bocca dell'alieno quindi cioè è veramente un'impresa di riuscire a fare tantissimo con niente sostanzialmente quindi se pensiamo che questi oggetti poi sono diventati iconici è interessante perché lo sono diventati secondo me ha ragione perché sono dei piccoli capolavori di design vero di sapere ottenere il massimo col minimo con delle risorse limitatissime farle fruttare al massimo e poi mi sento di dire anche sono riusciti a essere come dire inconfondibili nonostante le scherzissime risorse a disposizione hai detto niente perché poi lì c'era tutta una questione di comunicare di rendersi riconoscibili e questi qua erano veramente una firma e che poi pensaci Space Invaders in realtà poteva anche risolvere il suo problema in maniera molto semplice di dire ok ce la caviamo con molto meno per differenziarli stabiliamo semplicemente che in base alla riga danno punteggi diversi invece sono anche presi la briga di farli uno diverso dall'altro in maniera tale che tu all'interno del gioco potessi anche in qualche modo affezionarti e avere pure quest'idea di risposta visiva fra punteggio e forma del nemico cioè l'ufo che passa uno su tutti lo riconosci da un chilometro uno perché è fuori dal gioco che stalticamente diciamo sta da un'altra parte e quindi capisci che è speciale però dall'altra parte è interessante il fatto che veramente ogni oggetto la sua forma sono riusciti comunque a tirare fuori una narrazione da questa roba qui che è veramente incredibile veramente incredibile cioè un risultato pazzesco è bellissimo che sì no scusi è bellissimo che associare dei punti a delle forme già genera un senso di diversità che poi in realtà nel behavior cioè nel loro comportamento non c'è perché il loro comportamento è uno tranne per la stonare che poi è mystery e c'è il counting no questo è poi il gay design altra cosa però il fatto che devi contare il numero di colpi che tiri per sapere quale sarà il valore dell'astronave quindi puoi controllare questo è tipo bubble bubble antilitter esattamente è taito infatti e vabbè quindi insomma questa insomma mi sembra una un adesso sono gigantesco ciao Lorenzo sei bello però sono full screen ecco però no questo qui è una è una roba molto interessante è interessante per il fatto che anche le animazioni dei personaggi di Space Invaders sono limitatissime hanno solo due frame di non mi interasciate però full screen viene la no no ti ho tolto full screen no no perché io vi vedo purtroppo laggatissimo è interessante il fatto che anche i due piccolissimi no frame di animazione a disposizione di questi alieni messi a sync no con con il suono no di Space Invaders che peraltro Space Invaders è interessante perché è veramente tra le altre caratteristiche inimmunabili che ha è che on board aveva un sync analogico per produrre i suoi suoni a tre canali se non sbaglio direttuna e si c'era tre suoni individuali che sono generati analogicamente quindi infatti se vedete nel MAME ci sono i campioni Space Invaders non è di sintesi non è di sintesi mi pare il suo non vuole di una stupiscine e mi pare di sì però non vuole di una boiata forse non si usano più all'epoca c'erano i sample per molti anni sono stati sample forse a un certo punto hanno simulato però non simulato analogicamente con ciò che comporta però ecco sta all'aspetto audio come diciamo i vari specchi e compagnie belle stanno quindi ecco Space Invaders interessantissimo per tutta questa serie di di soluzioni no? che si si accolla e dall'altra parte invece abbiamo un mondo completamente diverso che è quello che invece deriva ah scusa è una cosa che ci tengo a dire Space Invaders arriva nel mondo nel 1978 esattamente 78 esatto nel 1978 e nel 1978 ovviamente non è che la televisione non trasmettesse immagini sofisticatissime che l'animazione giapponese già come dire aveva raggiunto dei livelli eccezionali si trasmetteva video tranquillamente ovviamente non è che lo stato dell'arte dell'immagine di un tubo catodico raster fosse quella di Space Invaders ecco i videogiochi cercavano piano piano di sfruttare questo strumento dello schermo raster e di avvicinarsi in qualche modo alla produzione di immagini che fossero però completamente sintetiche e interattive cioè quindi generate live da un microprocessore e quindi con la possibilità di controllarne tutte le caratteristiche a differenza di un segnale video invece in cui le informazioni arrivano così te le prendi e quest'è si le puoi processare puoi fare tutta una serie di cose però è ben diverso che sintetizzare no? un'immagine da zero e e la cosa che è interessante è che mentre in Giappone abbiamo appunto l'animazione televisiva giapponese no? che raggiunge dei vertici di qualità incredibili in America ci sono dei degli utilizzi veramente fuori di testo del tubo catodico per la produzione di immagini sintetiche vettoriali per a corredo diciamo dei programmi televisivi generalmente vengono utilizzate per fare o log animation di prodotti nelle pubblicità o log animation per programmi televisivi sigla di telegiornale e quant'altro e per ottenere questo tipo di risultato viene utilizzata una tecnica speciale che in realtà è il nome di un sistema modulare di sintesi video che si chiama Scanimate Scanimate è quella roba che diciamo tutta la la neon wave che c'è stata a fine anni 90 nei primi 2000 tutto il periodo MySpace Vector e che poi è stata ripescata nuovamente con la Vaporwave e compagnia bella viene appunto da questa da questa tecnologia assurda che si basa su un approccio completamente out of the box alla generazione di immagini televisive ovvero tramite la deformazione vettoriale attraverso oscilloscopi principalmente di segnali elettronici luminosi e l'utilizzo di specchi prismi e strumenti di distorsione del proprio della della struttura del tubo catodico per riuscire a produrre zoom in zoom out distorsioni share rotazioni nello spazio utilizzando dei moduli che non sono differenti da quelli che si usano oggi nella sintesi audio modulare cioè il segnale veniva patchato video all'interno di una serie di moduli fisici il risultato finale veniva visualizzato all'interno di questo monitor vettoriale che veniva a sua volta ripreso da una videocamera e che veniva quindi trasformato in un segnale video piatto e quindi poi trasmissibile su registrabile su generalmente stampavano i loro fotogrammi video su dei nastri magnetici le macchine scanimate e però ecco molto interessante perché erano in grado di generare come stiamo vedendo adesso delle forme vettoriali animate e queste forme vettoriali sono in realtà particolarmente interessanti per noi perché ci fanno capire da dove arriva l'idea di utilizzare un oscilloscopio di utilizzare un display drive deflection per provare a controllare degli oggetti grafici a schermo in maniera interattiva con un videogioco quindi i giapponesi diciamo vanno in questa idea del tubo catodico raster l'america dall'altra parte invece affronta la cosa da un punto di vista completamente diverso e tira fuori asteroids e lunar lander che sono due videogiochi che si basano invece su uno sul tubo catodico appunto a struttura libera senza griglia senza pixel la risoluzione è infinita il framerate non esiste concettualmente esiste il fatto che gli oggetti possono essere disegnati come dire liberamente in qualunque ordine si voglia si può iniziare a disegnare dal centro da un lato in alto a destra in basso a sinistra dove ci pare dello schermo con l'unico limite del fatto che questo raggio ovviamente deve fare tutti questi percorsi di disegno e ci mette un tempo per farlo quindi se gli oggetti diventano troppi possiamo andare a vedere degli artefatti di redraw degli oggetti perché riusciamo a leggere il momento in cui viene disegnato a schermo però il vantaggio è enorme perché a differenza di Space Invaders in cui loro erano costretti a giocare un po' con i Lego con una risoluzione molto bassa e il mattoncino lo metti qui lo metti qui non c'è via di mezzo la grafica di Asteroids invece permette di disegnare delle linee diagonali perfette delle curve perfette siamo proprio da un'altra parte e soprattutto i fotogrammi di animazione non hanno appunto quel limite di aggiornamento che hanno invece i nostri paradossalmente adesso il vettoriale ci sembra lentissimo come sistema di aggiornamento di tante informazioni invece rispetto alla tecnica utilizzata su Space Invaders è brillante perché permette di disegnare tanti oggetti a schermo come succede ad esempio in Asteroids senza che ci sia bisogno di muoverne uno alla volta e quindi di aggiornare lo schermo in una maniera un po' come dire innaturale in più il vantaggio enorme degli schermi vettoriali altra cosa che noi oggi non possiamo apprezzare purtroppo in fase di emulazione è che questi schermi vettoriali hanno questa luminosità fuori scala proprio perché il tubo catodico proietta una luce molto più intensa rispetto a quella che viene utilizzata per le immagini raster e quindi diciamo da un punto di vista visivo a parità diciamo di tecnologia beh il vettoriale a mio avviso era parecchio più impressionante rispetto al primo schermo raster ripeto fa ridere perché oggi il vettoriale noi lo guardiamo come una roba insensata che diciamo perché hanno fatto i giochi vettoriali erano pazzi cioè era molto meglio il raster il futuro il raster però lì per lì non era per niente chiara questa cosa e anzi il futuro sembrava probabilmente più dalla parte del rendering vettoriale dei disegni anche perché per i giocatori questa cosa non era affatto chiara di quali erano poi i limiti cioè il vettoriale la verità è che aveva un collo di bottiglia futuro breve che secondo me era anche noto agli sviluppatori però finché come dire la battaglia era fra Space Invaders e Asteroids era Asteroids fra la Franca questo mi sembra esattamente tra l'altro c'è un dettaglio molto interessante sul allora qua noi lo stiamo vedendo emulato e quindi lo stiamo vedendo senza la caratteristica fisica della luce che arrivava sullo schermo che quindi inizialmente tutto quello che vediamo adesso aveva lasciava una piccola scia dovuta appunto ancora una volta alla alla persistenza dei fosfori ma non solo alcuni giochi lavoravano sull'intensità di alcuni punti per esempio gli spari o alcune cose che volevano essere più luminose semplicemente veniva disegnato due volte lo stesso lo stesso tratto veniva fatto due volte contemporaneamente due volte lo stesso lo stesso tratto di schermo e questa è una roba che è molto difficile da emulare da raccontare ecco se posso come testimone oculare anch'io dell'epoca credo che ancora fino tra Space Invaders e Asteroid almeno come giocatore che comunque era molto piccolo per la mia memoria che in qualche modo c'era un'eccitazione equipollente nel senso che equipollente da polluzione ovviamente era abbastanza si bilanciavano c'era un trade off perché quello che non ti dava uno ti dava l'altro quello che veramente mi uccise e penso che ci arriveremo è il 3D cioè il fatto che il vettoriale penso sia Tail Gunner del 79 che è un gioco credo della Cinematronics quando lo vedi dici basta questo è il futuro non c'è dubbio non c'è dubbio cioè questo è il futuro vaffanculo Don'tay Kong questo è il futuro e lo vedi tra l'altro ex post perché non lo vedi in 79 lo vedi qualche anno dopo si stava leggendo anche i Kong ma questa roba quella roba lì era veramente non so se hai se c'è allora no guarda questa è una roba questa è una roba sbagliata ma che fa che rende molto bene l'idea questo qua è un cabinato di asteroids sul quale stanno giocando dei giochi del Vectrex quindi tecnicamente tutto sbagliato ma rende molto bene l'idea di luminosità e di resa che aveva uno schermo vettoriale sicuramente meglio di quello che stiamo vedendo qua sul sul MAME che appunto è per carità per certi versi esatto ma non racconta tutta la storia ora quello che è interessante del modo vettoriale di disegnare la grafica di questi videogiochi è che erano videogiochi che concepivano le forme che andavano a disegnare quindi non come delle matrici appunto a griglia ma effettivamente come dei disegni nello spazio e la cosa che è interessante è che la parte di software che si occupava di gestire perché ho studiato bene come funziona il disegno di un gioco vettoriale e la cosa che mi ha colpito è il fatto che c'è molto più ragionamento di quello che pensassi non che pensassi fosse una cazzata intendo dire che c'è dell'altro che è difficile immaginare ad esempio per dire il modo più semplice su cui ragionerebbe pensando di avere a disposizione questo cannone che può disegnare tutte le cose liberamente è quello di prendere i singoli segni e proiettarli nell'ordine che uno vuole nella loro posizione assoluta però questa cosa qua sarebbe estremamente stupida perché siccome ogni segno ha un inizio e una fine e invece le forme prendiamo gli asteroidi di Asteroids sono delle forme chiuse fare un segno per poi proiettarne un secondo e un altro e un altro e non farlo in un unico passaggio comporta il fatto che bisogna disegnare il doppio dei vertici perché c'è il vertice di inizio e fine inizio e fine inizio e fine quindi c'è uno spreco di memoria e di tempo considerevole e in più c'è anche il fatto che questo renderebbe impossibile ovviamente l'animazione tutta una serie di animazioni come la scala la rotazione degli oggetti che richiederebbero un calcolo complessissimo invece ragionare su delle forme chiuse che hanno il loro sistema diciamo assiale di riferimento locale ok permette di trasferire delle istruzioni estremamente semplici funziona già come una specie di piccolo linguaggio di programmazione come dire al suo sistema di istruzioni ecco come fosse un un processore a se stante dedicato a questa piccola parte di software che quindi permetteva di gestire la scala la rotazione e operare trasformazioni matematiche su delle forme non sui singoli pixel questa roba qui è veramente incredibilmente più sofisticato rispetto a come ragiona un gioco raster da questo punto di vista eccezionale quindi due tecnologie completamente diverse due tra ventesi ovviamente anche il vettoriale di Atari sfrutta in alcuni casi degli overlay grafici penso ad esempio a Battlezone che mi pare che utilizzassero per lei verde sullo schermo peraltro ho visto il cabinato originale di Battlezone perché all'epoca trovai parlo del 1999 insieme a un ragazzo che si chiama Fabio Meschini che collaborò peraltro a quella mostra eccezionale che fecero alla Galleria Nazionale a Roma che si chiamava Play se non sbaglio storica mostra di videogiochi forse la prima mostra di videogiochi importante che c'è stata in Italia e lui contribuì con un po' di pezzi lui aveva Star Wars a casa da lui presi una scheda di Asteroids peraltro che era bruciata e sono riuscito a farla riparare due mesi fa ah già è vero come l'avevi anche detto da Alessio Cosenza l'ho tenuta in un armadio per vent'anni e adesso funziona scusate l'entusiasmo di questa roba qui ogni volta la vedo diciamo ma che me la venga a fare questa scheda e poi ho trovato finalmente qualcuno che la riparata e ora funziona quindi abbiamo un nuovo Asteroids in funzione e un nuovo vecchio ovviamente targato Atari bellissima scheda grigia e argento meraviglioso vabbè detto questo quindi sì anche loro utilizzavano quindi tecniche meccaniche diciamo per ottiche per trasformare il segnale però ecco questi sono diciamo i due i due punti di partenza completamente diversi avranno un futuro completamente diverso l'uno dall'altro è interessante il fatto che oggi ancora oggi non abbiamo la risoluzione di un display vettoriale cioè comunque a 4k siamo arrivati ma non siamo ancora alla funzione continua e quindi il vettoriale comunque continua a mantenere ancora oggi il suo record un primato assoluto e peraltro se riuscite a rimediare ve lo dico con tutto il cuore avere un Vectrex è una cosa proprio bella quindi se riuscite a rimediare un Vectrex costa caro non ne rendo conto ma è una roba meravigliosa oggi l'abbiamo visto con Marco Vernillo l'abbiamo visto da lui ci ha tirato fuori addirittura anche un overlay il Vectrex era una console domestica con i suoi overlay è ancora incredibile io l'ho c'è stato di recente a Roma a Cinecittà a Rom Video Game Lab dove c'era una grossa collezione di videogiochi e io ero lì a fare un pochettino da guida a fare un tour devi vedere bambini bambine ma piccole come reagivano a vedere il Vectrex cioè rimanevano attaccati al Vectrex perché è ancora fighissimo falene falene è così è così senti ma la domanda devo fartela ma dato l'evoluzione tecnologica mettiamo che perdevano i raster e vincevano i vettoriali dal punto di vista tecnologico ci sarebbe stata possibilità di far evolvere questa tecnologia considerando quella che è stata la tecnologia dei primi anni 80 degli anni 90 cioè sarebbe potuto esistere un monitor vettoriale poligoni non so flat shaded pieni robe così boh nel senso mi sento di dirti che no mi sento di dirti che esiste un limite credo fisico a quello che è possibile disegnare disegnare con un diciamo un sistema vettoriale disegno però mi vengono in mente ad esempio anche i laser che vengono utilizzati adesso per fare le luci durante i concerti i display vettoriali oggi si usano principalmente per proiettare e quando vedete quelle forme fighe che vengono proiettate sulle live di elettronica sono fatti con un sistema non dissimile però io vedo che non è una tecnologia che si è evoluta più di tanto ok l'unica vera grande evoluzione del vettoriale mi pare sia stata quella dell'Atari quando ha osato fare dei display vettoriali a colori vogliamo voglio fare però un'ultima nota voglio fare solo un'ultima annotazione che è questa quindi allora vettoriale quindi che caratteristiche offre gli artisti perché a noi quello ci interessa abbiamo visto la grafica raster offre questa griglia vi ricordate i chiodini quelli con cui andiamo a posizionare le robine colorate da bambini esatto quella roba lì o i mattoncini di ricon qualunque effetto sia che vogliamo quali sia la metafora diciamo quindi una serie di possibilità estremamente limitate in una griglia data di spazio per andare a scrivere letteralmente nella memoria del videogioco dei punti che venivano ecco su questa cosa ci tengo a dirla perché è proprio una roba che mi sta veramente a cuore allora mi sbrigo la cosa interessante del digitale in Space Invaders è che e dell'immagine digitale in Space Invaders è che ci fa capire che esattamente come quando noi scriviamo una poesia che è fatta di lettere uniche indivisibili ok è l'ordine in cui vai a mettere le cose che fa la differenza cioè non non ti può inventare un pixel più bello più brutto non c'è un modo di mettere i pixel giusto sbagliato da un punto di vista diciamo dell'esecuzione le possibilità sono due o la metti o non la metti il pixel il punto in cui lo metti il punto in cui lo togli ok e la cosa che è interessante è che questi pixel hanno queste immagini pixel hanno una caratteristica fondamentale cioè sono state scritte su carta ma probabilmente sono state imparate a memoria dalle persone che li hanno trascritti all'interno del videogioco e questo è un fatto fondamentale perché è una dimostrazione lampante del fatto che il cervello umano è digitale e che queste immagini cioè è in grado di quantizzare il reale digitalmente il motivo per cui l'uomo non ha nessun bisogno di nessuna device per creare informazioni digitali è la riprova come dire io posso ricordarmi a memoria uno sprite space invaders e ripeterlo bit per bit in maniera esatta esattamente come posso ricordare una poesia di Giacomo Leopardi e memoria e quindi questo rende delle poesie di sprite di space invaders questa roba qui a me lo so che è un momento patente no 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 invece no ma è bellissimo se ci pensate è una roba incredibile e la verità è che questa natura del mente digitale dell'uomo è una roba che non non si è persa mai la verità è che la complessità è salita abbiamo bisogno spesso di device per memorizzare delle immagini sono molto complesse memorizzare a mente diciamo un'immagine 300 dpi 24 bit ovviamente potrebbe essere problematico e quindi abbiamo bisogno di computer che ci aiutano a farla questa cosa ma il processo di di traduzione di un'immagine di quantizzazione è una roba assolutamente umana e io trovo che ci sia la stessa bellezza di un testo manoscritto in questa roba qui non so come dire c'è proprio una bellezza una purezza di intelletto rara detto questo comunque non è assolutamente lirismo random siamo con te penso che lo siano tutti dagli scrivi con l'arte cuneiforme alla parcerizzazione cognitiva alfabeto cioè è lì e poi il poesia sta che li mette insieme e chi ha deciso che quei due pixel stanno ed è anche molto importante secondo me scindere il concetto di digitale da fatto coi computer non è quello cioè è un altro concetto poi certo una roba fatta coi computer solitamente è digitale ma il concetto di digitale vuol dire è una cosa che arriva prima dei computer ecco esattamente ne parleremo presto in un testo che ho scritto di cui discuteremo esatto però non facciamo troppi spoiler colori comunque colori aspetta aspetta due cose lasciamoci dietro due cose importanti prima di reali colori e sono mi rendo conto che non finisco più questa roba ma ci sta ci siamo vai vai siccome ci sono due cose però che dobbiamo dire artisticamente noi abbiamo parlato delle limitazioni cosa ci portiamo dietro da questa esperienza di space invaders e di asteroids di asteroids ci portiamo dietro che il nostro personaggio è un triangolino e i nostri nemici sono delle patate poligonali strane mentre invece in space invaders abbiamo degli esserini con gli occhi che ci guardano e secondo me questa è una roba grossa che ha a che fare molto con la natura di come vengono prodotte queste immagini perché non non stento a credere che disegnare una struttura figurativa con un sistema vettoriale fosse figurativa diciamo naturale in qualche modo ecco che avesse infondere la vita in un personaggio vettoriale è sicuramente più un guaio rispetto a quello che si può fare con immagini raster che nella sua brutalità però ci mette davanti degli esserini con degli occhietti che si muovono e questa roba qua infatti c'è un gioco c'è un gioco per Vectrex che si chiama Spike che è uno dei pochi casi tra l'altro bellissimo di tentativo di fare quello che tu hai appena guardalo qua così si vede anche bene questo è un tentativo di infondere vita a dei personaggi fatti con con i vettori però è tutto un altro paio di maniche è tutto diverso capolavoro questo tra l'altro bellissimo si si anche perché è dell'epoca poi hanno fatto Frogger hanno fatto un sacco di cose su Vectrex post però farlo all'epoca spesso siamo degli ultimi giochi di 83 quando è Spike anche la sintesi vocale gioco incredibile gioco incredibile Spike bellissimo fantastico cioè mi è morto il mio secondo monitor comunque nessun problema per noi quindi questo mi sembrava rilevantissimo dirlo ora incredibilmente non era veramente incredibile Namco nell'arco di pochissimo tempo fa un salto in avanti nelle possibilità dei videogiochi raster con Galaxian e Galaxian è un videogioco che si presenta al mondo con la bellezza di 32 colori su schermo che sono un'enormità partendo dall'assunto che ha un sistema di produzione di colori che è già RGB e e quindi come dire già si basa sui principi contemporanei con cui andiamo a generare le nostre immagini digitali ancora al giorno d'oggi e con una palette di 224 colori unici ok quindi tra cui scegliere che significa una palette allora la grafica digitale elettronica può essere prodotta con voi sapete che la vera definizione di digitale spesso noi confondiamo la definizione digitale con numerico digitale non è numerico digitale vuol dire discreto cioè vuol dire composto una serie di informazioni che puoi individuare come entità ben distinte fra di loro ok una quantità di informazioni limitata soprattutto ok e quando parlo di informazioni limitate non intendo dire che hai solo due tubetti di colore un rosso e un blu che puoi mischiare come vuoi intendo dire che se hai quel punto di rosso e hai quel punto di blu sono quelli e non li puoi miscelare in nessun modo per di loro sono informazioni indicizzate nel caso di Galaxian le informazioni indicizzate relative al colore hanno 224 224 che è un stranissimo numero 2824 colori da cui attingere 32 da vedere contemporaneamente su schermo questa palette di 224 colori era stock cioè nel senso arrivava con il gioco quelli erano tu potevi avevi questo registro con i suoi colori all'interno e potevi andarti a pescare i colori che ti servivano come fosse un enorme scatola di pennarelli ok con cui andare a colorare i tuoi pixel a schermo e quindi dicevo se è vero che le informazioni sono discrete quindi Galaxian continua nella linea di un'immagine raster quindi informazioni discrete per disegnare le tue informazioni a schermo per disegnare la forma degli oggetti quindi pixel che possono che sono un numero di adesso non mi ricordo esattamente qual era la risoluzione un attimo che la controllo era un po' più alta se non mi sbaglio quella lì non era 256 per la 20 era un numero strano anche lì 280 beh anche perché ricordiamo che eravamo in un'era di ancora assenza di standard cioè c'era così così tanto pionierismo che non è che era ah ok si fa così no c'erano varie soluzioni diverse era 256 per 224 ma con un overscan strano a 384 per 264 che non so esattamente come funzioni però ricordo che questi giochi avevano era 256 per 224 e in verticale andava ovviamente a 224 per 256 perché era girato semplicemente il display e ora questa cosa qua è interessante perché appunto ritornando al discorso che facevo prima fra digitale e numerico la vera cosa interessante appunto è la quantità di informazioni disponibili per i creativi sempre per creare le loro immagini e in Galaxian arriva finalmente quindi il colore la possibilità di animare e di disegnare figure che avessero fino a 32 colori contemporaneamente a schermo una roba molto interessante di Galaxian che secondo me è clamorosa è proprio il fatto anche di come decide di presentarsi da un punto di vista di immagine di comunicazione con questo logo fricchettonissimo che ricorda un po' le cose di Roger Dean già Roger Dean che poi benedirà i videogiochi nel futuro però ed è molto interessante quella roba lì proprio perché c'è questo tema proprio super lisergica fricchettona del fatto che il mondo di Galaxian è un gioco arcobaleno c'è un gioco che ha tutti i colori del mondo anche lo Starfield di Galaxian che è prodotto tramite un sistema che praticamente credo sia inemulabile poi tecnicamente realmente penso possa essere simulato ma utilizzava proprio credo fosse creato con un sistema di era un componente discreto credo sulla scheda madre che produceva quell'effetto lì ecco dicevo Galaxian quindi si presenta come un carnevale sostanzialmente di colori tra l'altro a proposito di colori Luca Fire specifica non è un numero stranissimo quello dei colori equivale al valore decimale e zero perché gli altri ossia esadecimale 20 ossia 32 sono riservati a quelli assegnati su schermo per il trasferimento dei picked up ok ok però diciamo quando però aspetta non mi ah sì sì giusto chiarissimo quindi esattamente in effetti sono 32 più 234 chiarissimo quello che però quindi aspetta però vi faccio una domanda quindi quando leggiamo la famosa palette di 512 colori del PC Engine per dire sono 512 colori a cui attinge PC Engine esclusi quelli che però fa vedere a schermo come funziona perché ho sempre visto le palette segnate a prescindere da quanti le puoi stampare a schermo strano come viene riportata questa palette viene riportata proprio 224 colori unici vabbè comunque sì probabilmente perché è talmente semplice la struttura che appunto devono essere potarsi può darsi che il chip video permetteva 224 colori ma poi le le prom dei colori avevano programmato un limite inferiore magari potrebbe essere anche questo sì sì ma può essere semplicemente molto semplice magari mancano dei pezzi in mezzo per cui non potrebbero essere palleggiati i colori fra quelli visualizzati e quelli in memoria comunque detto questo grazie Luca Fire mi sembra un'informazione fondamentale la cosa interessantissima ad esempio di questo gioco rispetto a Space Invaders e che volta avere i colori a questi alieni che si staccano dalle loro formazioni e ti vengono addosso e mi ha sempre colpito da un punto di vista cioè io vedendo questo gioco qua francamente trovo un salto di qualità eccezionale in quello che può succedere a schermo rispetto a uno Space Invaders mi chiedo mi sono sempre chiesto come fosse possibile che riuscisse a muovere tutti questi alieni contemporaneamente farli staccare e venire e poi ho capito questa roba molto interessante cioè che in realtà Galaxian usa un trucco fantastico e cioè che i nemici quando sono fermi in formazione sono delle tile cioè sono uno sfondo che viene mosso siccome il gioco è verticale vengono mosso utilizzando un offset diciamo delle scanline della memoria video in buona sostanza cioè sono scrollati come se fossero un pezzo di background e solo quando si staccano diventano uno sprite anche questa cosa qua vi fa capire che parte della meccanica del gioco è strettamente collegata con i limiti di rappresentazione del gioco cioè nel senso questo è un gioco in cui non si possono staccare tutti i nemici e venirti addosso non può succedere e questa cosa qua dall'altra parte è interessante perché da un lato come dire è un impedimento dall'altra parte crea questa possibilità di far staccare finalmente un eleno e fartelo arrivare addosso quindi anche qui ci troviamo di fronte a un caso in cui un'estetica formale e tecna come dire formale e narrativa e cioè di rappresentazione del gioco e le regole del gioco sono strettamente collegate ai limiti tecnici e sono come dire frutto in qualche modo di un modo di ragionare in maniera molto creativa con dei limiti che sono madornali no? non so se mi spieghi a me a me affascina come fantasia che comunque è una è una trade off accettabile da un essere umano che ha guardato i film in cui quando uno viene assalito l'eroe viene assalito dall'esercito nemico lo combattono in tre e tutti gli altri sono dietro ma perché è anche di nuovo un carico cognitivo compatibile con il nostro modo di gestire le informazioni quindi ci sta esattamente esattamente talmente sì nei film ma anche probabilmente molte delle scene che ho visto con pochi nemici che ti vengono addosso perché gli altri erano dipinti su un vetro e c'erano due modellini e non di più quindi voglio dire è un dato di fatto che come dire alla fine noi siamo abituati a un modo di a un delivery proprio delle informazioni che non ci rendiamo neanche conto quanto dipende dalle limitazioni hardware proprio che sono a disposizione dei creativi comunque questo non per dire che qualunque scena in cui si scelga di avere un solo inseguitore dipende dal fatto che non avevi tanti soldi per avere un cast più numeroso ci sono anche delle scelte molto belle però se pensiamo a Duel di Spielberg è esattamente così cioè quello si poteva permettere con le due cose e ci ha fatto quindi guarda quanto cioè sono i mostricciattoli di Galaxian sono ancora figli comunque ispirati a quello che abbiamo visto in Space Invader ma guarda come l'aggiunta qua hanno tre colori l'uno guarda quanto diventa più complicato il discorso che abbiamo fatto prima cioè il discorso che tu hai fatto prima di spostare un occhietto così si aggiunge un layer di complessità che anche solo con tre colori cambia completamente questo gioco di mosaico di fatto quando se voi guardate i cessi dell'antica Roma i mosaici che ci sono alla villa sono wow sembrano delle sono delle informazioni digitali anche quelle per certi versi quante possibilità di sbagliare in più è una roba incredibile c'è un gioco di Taito dell'80 che si chiama Lupin Lupin terzo che è il primo primo anime su licenza primo gioco archivi su licenza da un anime e sicuramente è un disastro è un disastro perché è praticamente fatto dagli stessi grafici o comunque sono sempre loro di Space Invaders ma dovevano gestire una roba enorme cioè qualcosa che preesisteva che aveva dei vincoli ed è drammatico cioè nel senso non ha l'eleganza in nessun modo si può trovare un'eleganza sì per ragioni di contrasto e affinità con gli originali e tutto però Lupin è diventato un tizio con il mantello e con quel berretto quel cappello a falda lunga da Arsenio Lupin più grande da Arsenio Lupin ma infatti una cosa che trovo interessantissima rispetto a quello che stai dicendo è se andiamo ad analizzare i due le due illustrazioni una di Space Invaders se ce l'hai l'immagine sulla fiancata proprio del cabinato allora guarda ti prendo la side art di Space Invaders e prendiamo quella di Galaxian interessante perché quella di Space Invaders va incontro ai limiti del gioco cioè cerca di e in questo senso è di un'intelligenza che non è di questo mondo ok? perché voglio dire non era per niente scontata come scelta no? e è una roba che boh nel senso che uno tenderebbe a fare oggi no? quella di avere un oggetto monocromatico cioè c'è un'idea come dire si parla comunque sia con l'aspetto pixel del gioco in qualche modo c'è un oggetto ripetuto no? c'è una rappresentazione molto schematica e dall'altra parte invece se prendi Galaxian c'è già un'immagine che ti fa sognare qualcosa in più no? e questo è perché secondo me l'introduzione del colore offre una speculazione visiva in più c'è poco da fare cioè nel senso loro si sono resi conto che potevano veramente portare lo spettatore no? in una condizione di completare sempre qui di operare una closure no? fra quello che avvariva nello schermo del coin op e il mondo che era rappresentato in questo modo così incredibile già basta pensare ad esempio come rappresentato cioè il logo di Galaxian in game c'è il logo lì c'è che è una roba pazzesca c'è Spesive c'è una scritta che sembra veramente un cablogramma dove ti dicono che è partito un attacco sei forse forse è su Famicom il logo di Galaxian mi sa anche a me forse forse non ne ha riusciti era il pelo ma non c'è però ecco questo questo è un fenomeno fantastico ed è un un dettaglio mi ricordavo un dettaglio molto interessante della pixel art è che nel suo essere per forza di cose approssimativa e incompleta veniva completata da da chi la guardava motivo per cui c'erano side art c'erano illustrazioni che ti ispiravano per guidarti su come completare tu quel quel puzzle semiotico che è lo sprite ma anche porta a un fenomeno bellissimo per il quale quando guardiamo quando guardavamo soprattutto ai tempi i bonus di bubble bubble o degli sprite tutti o meglio molti vedevano delle cose diverse oppure uno dei miei esempi preferiti è la uno dei bonus di bubble bubble c'è un sacco di sushi in bubble bubble e oggi noi lo sappiamo cos'è il sushi ma ai tempi non lo sapevamo io ci vedevo delle saponette ci vedevo di tutto e tutti vedevamo delle saponette perché ci mancava quel tassello e noi quel puzzle semiotico lo completavamo con il nostro vissuto comune e quindi a un certo punto è un'altra puntata fatta e finita cioè bomge che le mele e io a spiegare alla gente ma c'ha una miccia non posso si chiama bomge ma sono rosse sono rosse sono mele bomge bomge e sono mele sono rosse ma qualcuno si è mai preso la briga di fare apple jack secondo me no sai che forse devo guardare ma non lo escluderei ma la versione dedicola di bomge si chiamava mele nel frattempo c'erano un sacco di commenti bellissimi in chat di gente che si è che è presa molto bene vi ringraziamo che vi state prendendo bene anche noi ci stiamo molto divertendo siamo siamo appena siamo appena all'inizio siamo appena all'inizio direi proprio di sì senza dubbio e e niente comunque nel frattempo quei mattacchioni di Atari invece provano a sviluppare una tecnologia diametralmente opposta a quella che abbiamo visto fino adesso insistono col vettoriale e però riescono addirittura a introdurre il colore con una tecnologia che di cui oltretutto mi ero anche si chiama quadra scan sì sì quadra scan che mi era completamente scappata di mano che è quella che poi verrà utilizzato per realizzare appunto questo gioco meraviglioso che si chiama Tempest che è la vera risposta americana quindi tanto non si sapeva da che parte sarebbe andato il videogioco nel senso il futuro del videogioco sarà raster o il futuro del videogioco sarà a colori a un certo punto Atari decide addirittura di investire soldi buoni in ricerca e sviluppo e sviluppa la tecnologia del quadra scan quello che stiamo vedendo è il flyer arcade i flyer arcade erano i volantini che venivano dati non alla gente comune che non gliene poteva fregare di meno ma venivano dati ai gestori delle sale ai noleggiatori per dire guarda che figata questo questo è Tempest a svariate cose vedi tutti i dettagli e tutto ma non solo veniva strillato proprio che Atari presentava trademark il quadra scan color che permetteva di avere dei vettori a quattro colori quindi abbiamo visto l'arrivo dei colori in Galaxian dall'altra parte in America arrivava arrivavano i quattro colori di Tempest che tra l'altro è un capolavoro fuori dal mondo guardate questa scritta questa scritta quando la vedete su un monitor vettoriale è una roba ma poi tipograficamente il logo vabbè puntata sulla tipografia arriverà ovviamente per forza però ecco mi sento di dire una cosa importantissima che se vediamo questa immagine sul flyer di Tempest qui c'è nascosta una verità bizzarra e cioè Space Invaders non ha influenzato niente del mondo in cui è uscito dal punto di vista visivo cioè inseguiva in qualche modo un po' una rappresentazione pallida di un incontro ravvicinato del terzo tipo con questo uffetto che passava gli alieni che scendevano ed era un po' un come dire una rappresentazione simbolica della realtà Tempest invece ha creato l'immaginario da cui è nato Tron cioè nel senso questa roba qui ha influenzato la nostra visione di che cos'era il futuro molto più di Space Invaders non so se assolutamente cioè Space Invaders aveva proprio l'aspetto di una cosa diceva questo è un giochetto elettronico Tempest si presenta con una roba di dire questa è l'esperienza del futuro ok e quando tu vedi Flynn in Tron che gioca al suo Space Paranoids voglio dire si parla con Tempest non si parla con Space Invaders tra l'altro è una roba che trovo fenomenale di Tempest Tempest è un gioco fuori da ogni grazia possibile è stupendo ancora adesso lo giochi e ancora adesso è l'esperienza del futuro ancora infatti una delle cose ma una cosa infatti per cui uno dovrebbe semplicemente accettare il fatto che Jeff Minter è prima di tutto un grande artista è che Jeff Minter ha capito che era un'opportunità artistica completamente saltata a piedi pari dall'umanità non si capisce per quale motivo Tempest cioè ho detto se non lo fate voi lo faccio io e se l'è proprio accollato e l'ha fatto 50.000 volte perché voglio dire che fai che lo lasci lì Tempest è pazzo la cosa di Tron è verissima basta vedere che la quantità di film in cui i videogiochi dei primi anni 80 erano presentati dai videogiochi vettoriali c'era quei film mai dire mai che poi era 82 83 già entrava in un casino era pieno di videogiochi che erano tutti mi pare Star Wars di Atari e c'era loro giocavano un gioco vettoriale wireframe tridimensionale credo fatto apposta ad Atari che non esisteva ed era sempre questo era Tempest all over again come tipo di impatto di silo però ecco questo per dire che ripeto questa tecnologia che adesso noi ci sembra come dire tenera e spazzata via dall'ovvietà della superiorità della grafica raster è ovvio un cazzo nel senso che all'epoca era effettivamente sconvolgente e aveva la forza di proprio di influenzare di cambiare l'immaginario collettivo ecco su che cos'era un'immagine di un mondo virtuale quindi trovo che sia nonostante poi la cosa ridicola è che dopo questa roba qui per dire non c'è stato più niente cioè stiamo vedendo questo è già il canto del cigno praticamente di questa tecnologia insieme a Guerre Stellari e ne è l'apice possiamo anche dirlo secondo me esatto sì probabilmente sì però è singolare il fatto che ancora oggi noi abbiamo correnti artistiche di cultura visiva che sono ancora immerse in questa roba qui viene quasi da pensare che se non fosse che ovviamente non ce lo possiamo più permettere una tecnologia del genere perché poi questa è la verità anche non ci possiamo più permettere dubbi catodici non ci possiamo più permettere come dire un display fatto apposta per ogni avanzamento tecnologico siamo andati in una logica molto più di economia di scala questa roba qui verrebbe voglia di vedere la versione del 2021 vera ma quando c'è stato un momento che è stato il momento di Vibribbon che c'è stato un momento io vorrei una macchina dedicata c'è Vibribbon c'è Vibribbon su Vectrex c'è uno che ha fatto sul Vec32 ho capito devo va bene ok adesso finita questa linea o su un dispositivo vettoriale su un display vettoriale comunque io l'ho visto girare su un oscilloscopio mamma mia che gioia totale comunque ecco questo tra l'altro è uno spunto per una futura puntata perché da un lato tutto quello che è stato nel mondo raster è partita la cavalcata verso il realismo quella ricerca quella ricerca del realismo che era visto come un affrancarsi dai limiti tecnici tanto che siamo arrivati ai videogiochi ai videogiochi di adesso mentre invece il la grafica vettoriale portava in un primo momento a una reale possibilità del 3D perché se guardiamo Star Wars così c'erano effettivamente i primi tentativi anche molto riusciti a onore del vero di grafica tridimensionale creata con i non erano ancora poligoni però erano vettori e funzionava ma la via del vettoriale in un primo momento portava verso un astrattismo incredibile e stupendo bello bellissimo tra parentesi su Vectrex che peraltro il Vectrex ha avuto la genialità di uscire quando era proprio chiaro che non sarebbe stato quello il futuro perché è una macchina tutto sommato recente il Vectrex nella sua anomalia ricordiamo il Vectrex è una console che ha il suo tubo catodico drive deflection on board quindi si permette di avere la sua rappresentazione vettoriale corretta il Vectrex addirittura aveva gli occhialetti 3D con l'otturatore che ti permetteva di vedere effettivamente lo schermo a tre dimensioni come avviene adesso al cinema per capirci quindi era possibile fare delle robe veramente pazzesche cioè di roba 3D vera più stereoscopica con due immagini sovrapposte pazzesco vabbè detto questo volevo dire un'altra cosa riguardo a a questa roba qui ma me la sono dimenticata nel frattempo quindi fate finta di niente Tron Tron no 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 parlavo di di Tempest non me la ricordo va bene mi verrà in mente comunque andiamo avanti allora c'è abbiamo facendo un attimino un recap un riepilogo abbiamo da un lato all'inizio con Space Invaders quindi grafica raster grafica un bit solo bianco il colore veniva fornito con degli artifici analogici quindi adesivi adesivi nastri colorati trasparenti sullo schermo monitor che veniva a riflesso su uno specchio su cui c'erano delle illustrazioni quella luna di Space Invaders e dall'altro lato invece c'era la grafica vettoriale di asteroids poi asteroids lunar lander varie altre cose abbiamo preso dei giochi emblematici ovviamente per raccontare questa cosa ma volendo potete il mame esiste potete trovare tantissime cose molto belle arriva il colore il colore arriva con Galaxian di Namco che aggiunge tutto un nuovo layer di complessità ai discorsi fatti con Space Invaders e nel frattempo in America c'è Atari che prova a investire sul mondo vettoriale con il Quadrascan c'è una cosa comune tra tutte le cose che abbiamo visto fino a questo momento ossia sono tutte cose spaziali sono tutte cose che si concretizzavano con mostriciattoli e astronavi si e questa cosa qua secondo me apre a un scusate vediamo se lo trovo l'ho trovato eccolo qua apre all'arrivo di un personaggio che solo in quest'ottica si capisce quanto è stato fondamentale nella storia dei videogiochi perché altrimenti veramente non si capisce come è possibile un secondo solo ecco devo mettere zero stai per sfuggiare Photoshop si stai per sfuggiare Photoshop dammi solo un secondo ok abbiamo Photoshop bene che è Mario 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 compare all'interno di un videogioco che si chiama Donkey Kong che conosciamo tutti quanti ed è uno sprite squisitamente figurativo possiamo contare ecco vediamo disegniamo la palette di Mario io arrivo subito intanto vi lascio arrivo subito si abbiamo il rosso abbiamo questo colorino che è l'incarnato e abbiamo il blu sono tre colori unici la bandiera della Romania tipo più o meno lavata in lavatrice male esatto ed è interessantissimo questo sprite perché questo è uno dei casi più eclatanti cioè questa roba qua porta fuori tutto quello che abbiamo detto fino adesso e lo fa arrivare all'inesima potenza perché questo limite formale di rappresentazione che abbiamo visto finora dei pochi pixel a disposizione pochi colori a disposizione una dimensione degli sprite molto limitata gli sprite sono gli elementi che cambiano all'interno di un videogioco rispetto allo sfondo quindi sono le cose che possono essere animate ecco diciamo in soldoni non è proprio così però diciamo che diciamo che è così ok per farla forse Babi c'è una definizione più potabile della mia però più corretta è perfetta ok questo però è uno sprite che ha un character design che ha inconfondibile che è generato dalle limitazioni tecniche e che ha generato una lore nel sistema di rappresentazione coordinato di questo personaggio ovvero nelle sue apparizioni sulla carta stampata quindi sulle illustrazioni della scatola sulle illustrazioni di fianco ai cabinati e il fatto che sia in donkey kong a onore del vero lui si chiama jumpman non è ancora mario ti becco quello giusto ti becco anche quello giusto ti becco di che cosa ah no ti becco mario bros se vuoi come flyer no no donkey kong però è la prima apparizione di mario sì lo è ok donkey kong è la prima apparizione di mario lui si chiama jumpman ancora qua non ha ancora un nome chiaro però mi ha moto quando è stato intervistato per capire come fosse nato mario poi la fine in futuro lo sprite e questo qui spiegava questa cosa che lui non aveva pixel a disposizione per disegnare il naso e la bocca e quindi ha disegnato i baffi perché era un modo come dire per avere tutte e due le cose senza che venisse fuori una faccia mostruosa in monosistanza e quindi a un certo punto ci sono rimasti queste cose vabbè i baffi chi ce l'ha o i turchi o gli italiani ok c'è fuori questa doppia opzione e alla fine hanno optato per un italiano per cui l'hanno chiamato Mario ma il fatto che lui sia un italiano dipende solo dal fatto che se io qua provo a disegnare appunto una bocca verrebbe fuori una faccia di questo tipo che non è sembra sdentato sembra una roba esatto sembra è una faccia orribile per cui hanno detto no gli disegniamo il naso grosso e o gli mettiamo o gli mettiamo il naso i baffi o la bocca e quindi alla fine si sono trovati costretti ok a mettergli questi baffi la cosa interessantissima è il trovo di questo spread che è veramente un long shot da un punto di vista cioè c'è un più che un long shot è un atto di coraggio incredibile è questa roba che gli occhi sono dello stesso colore dei baffi e sono attaccati sulla diagonale dei baffi che è una roba completamente folle eppure sono occhi eppure questi due pixel fanno da un lato fanno la forma dell'occhio l'ombra del naso che diventa che si blenda nel baffo e i baffi cioè questa forma qui se ve la faccio vedere da sola ok cioè andiamola a disegnare qua fuori di lato è questa roba qui cioè non so se ci rendiamo conto della pazzia totale ed è efficacissimo però da un punto di vista figurativo sarebbe molto divertente fare un mettersi un giorno e provare a tirare fuori un cast di personaggi alternativi basati su questa esatta specifica limitazione grafica ti dico di più lo facciamo direttamente live nel gioco c'è già sempre per dire se gli togliamo questo orecchio guardate i bei capelli ma no no disastro ma facciamolo scusa abbiamo quel nestico quel vecchio muratore si poteva cambiare la grafica guarda già così tempo reale ha preso un pugno ci abbiamo tolto un pixel quanto faria è un pugno tra l'altro ma poi il baffo è un baffo senza senso perché va sia in su che a destra è benissimo è geniale ma poi la stessa la stessa logica la pasitta guarda che hanno speso un pixel in più per fare questo pezzettino di basetta bellissimo poi il fatto che il berretto deve nascondere il ciuffo perché non riusciva ad animare il ciuffo quindi ha messo una berretta perché non riusciva ad animare il ciuffo cioè c'è tutta una serie di roba la salopetta per il braccio c'è una manica che stacca il braccio c'è una roba è bellissima quindi ecco la cosa interessante è che però da questo questo è uno è il primo videogioco in cui questa roba qui in qualche modo influenza in maniera indelebile cioè il fatto di aver fatto questa scelta cioè di dire gli disegno il naso o i baffi ha creato Mario come concetto questa roba qui mi sembra un un fattore estremamente rilevante lo è e tra l'altro è Mario insieme anche a Pacman e pochissime altre cose è proprio l'arrivo del personaggio non è più un astronave non è più un mostriciato d'astratto è una faccia è una faccia esattamente e non è un caso che questa cosa arrivi dal Giappone guardalo così è il cappellino che carino mettiti indietro fa l'extreme va bene però la facciamo nella versione filmica quella con Bob Hoskins esatto esatto è una roba è però così è una roba è stupendo bene quindi sì sicuramente diciamo che Mario ha proprio questa questa forza incredibile no? di riuscire a tornare nel mondo reale in qualche modo no? il bottone della salopette cioè quella roba lì non era una salopette se non glielo mettevi ad esempio qua ce l'avrei messa questa brevellina ma infatti in in Super Mario Bros poi la bretella è completa ok però diciamo che ecco siamo davanti a un a una roba grossa proprio questo è un è un quantum leap da un punto di vista artistico ci abbiamo personaggio peraltro mi sento di dire anche una cosa che qui i videogiochi giapponesi fanno scusami mi accego un secondo che voglio prendere una roba tranquillo perché ovviamente adesso ne stiamo parlando di Mario ma in questo gioco c'è una roba a mio avviso più importante peraltro posso fare un'invettiva sì siamo qua per questo farò un'invettiva farò un'invettiva un'invettiva è la seguente e cioè che un attimo aspetta che ho preso il Mario sbagliato hai preso title brasilia non ho preso title brasilia ho preso questo girava su un hack di galaxian se non ricordo male come hai detto guarda la cammina c'è dei problemi fortissimi aspetta che becco quello giusto c'è ci sarebbe veramente il donkey kong sulla conversione di cose che è title brasilia ma in realtà noi vogliamo eccolo qua bene dicevo ovviamente all'interno dello stesso gioco abbiamo donkey kong che è in assoluto un forse il primo caso veramente di disegno eclatante pixel indimenticabile che ha comincia ad avere uno stile inconfondibile dal punto di vista grafico cioè non sta risicato nella sua risoluzione sembra come dire un personaggio perfettamente a misura in particolare questi croci che separano i denti che sono il suo tratto distintivo per eccellenza come dire ha un allineamento talmente perfetto di limiti tecnici e risultato poi grafico da renderlo indimenticabile la mia invettiva è proprio nel fatto che io non capisco com'è possibile che la nintendo ha preso questo patrimonio qua questa cosa incredibile e l'ha data in mano ai fratelli stamper che hanno fatto Donkey Kong e poi stanno ancora soffrendo ma basta però a un certo punto ci dovrebbe essere un momento in cui se la nintendo penso che pure se la perdi è una causa che cazzo ti frega cioè lo usi basta e torni a quello di prima il fatto è che esiste in qualche modo anche quello di prima la disperazione di non poter usare di aver creato ormai una cosa che è il flagship Donkey Kong che è quello della Rare che gli abbia in gloria poveretti hanno creato tipo Mario vs Donkey Kong dove è Donkey Kong disegnato di nuovo comunque non è però ci sono tutti quelli per Game Boy Advance ci sono tutta una serie di Donkey Kong in cui torna il Donkey Kong quasi quasi originale che poi riprende tutti i cartoni animati degli anni 30 è come quell'estetica dei Game Watch qui c'è un tentativo di portare l'estetica a Game Watch o forse cronologicamente Lorenzo ma mi dàvi un secondo di quelle croci dei denti perché io l'ho sempre visto e non mi sono mai soffermato cioè so che ci sono ma lo guardo da lontano e funziona lo guardo da vicino ed è sbagliato è una roba incredibile cosa sono quei denti? però se guardi i disegni di Miyamoto sono interessanti perché ci sono le croci anche nella sua versione disegnata grafica vediamo se trovo ci sono anche nel Game Watch sono rappresentati sempre così i denti di Donkey Kong ma anche poi in Wild Gunman in tantissimi giochi di Nintendo anche per i primi giochi NES c'è sempre questa estetica costante proprio l'occhio fatto in un certo modo tra l'altro Wild Gunman è un altro gioco che ha dei personaggi grandi quindi ti puoi dare un po' di aria in più e dilettarti tra questi dilettanti cazzo hai ragione hai ragione adesso capisco cosa intendi aspetta guarda qua questi sono i bozzetti di Miyamoto e guarda lì è il suo modo di rendere l'incrocio dei denti ok wow esatto ed è incredibile tra l'altro ricordiamo che e si vede tantissimo in quel disegno di Mario ma tantissimo sappiamo che doveva essere un gioco su licenza di braccio di ferro poi la licenza è slittata hanno fatto il Game Watch poi hanno fatto effettivamente il gioco di braccio di ferro la sala giochi ma Donkey Kong doveva essere il gioco di braccio di ferro c'è tutto guarda il mento guarda quel mento c'è tutto il mento il mento è proprio ma sopra guarda quell'occhio piccolo cioè è braccio di ferro italiano una cosa bellissima sì 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 tra l'altro di recente ho avuto l'onore meraviglioso di vedere Sandro Dossi che disegnava un braccio di ferro e mamma mia mamma mia che meraviglia totale vabbè questo sì anche perché o è Segar o è Sandro Dossi Sagendorf non non ha perduto non ha funzionato vero e Pauline è il palette swap di Olivia o il palette swap c'è una cosa con il vestito bellissimo bene quindi no per me qui siamo davanti al vero inizio no del dello strapotere raster per la rappresentazione perché che succede Nintendo fa una serie di scelte e non so se vogliamo introdurre questo argomento secondo me sì perché poi noi parleremo magari nel dettaglio la prossima volta però qui Nintendo fa uno statement fa uno statement a mio avviso eclatante che sarà ancora più forte che un braccio di ferro perché un braccio di ferro è proprio è un iper statement quello che fa è quello di dire noi dobbiamo puntare a pochi colori anime like ok e a una risoluzione più alta possibile per rappresentare i disegni cioè mentre in America come dire si ragiona su quest'idea di rappresentazione comunque fotografica di elementi luminosi di laser di robe che sono di una hanno comunque una dimensione con una fisicità una concretezza comunque ancora per quanto si parla di figure astratte e quant'altro l'espressione a schermo non è quella di un disegno animato di un cartone animato controllato dal computer ma è quello comunque di una figura futuristica che non sappiamo ancora che cos'è Nintendo invece fa uno statement che è quello di dire noi vogliamo fare vogliamo portare il linguaggio dell'animazione giapponese dentro al videogioco e qua questo è il mondo si spacca e questo è il vero gancio che ci porta alla prossima puntata nella quale affronteremo questa questi due mondi questi due approcci questi due perché veramente come stiamo parlando di arte e si creano letteralmente delle correnti correnti che sono frutto di precedenti culturali di influenze culturali geografiche e c'è veramente quando noi guardiamo i videogiochi degli anni dei primi anni 80 tu guarda il Commodore guarda Forbidden Forest e guarda Tower of Druga sono due cose completamente diverse sono due mondi cioè sembra quasi che non siano lo stesso campo ne discuteremo seguirà dibattito la prossima volta però uno è una rappresentazione di un mondo e l'altro è una rappresentazione di una rappresentazione secondo me esatto Dan Gorlin fa una roba con Choplifter Defender Mondi Forbidden Forest lo scrolling infinito Mondi in qualche modo vabbè poi Forbidden Forest è complicato e dall'altra parte gli anime i fumetti gli anime voglio la risoluzione più alta per braccio tutto vero bellissimo non vedo l'ora che sia la prossima volta non vedo l'ora evviva evviva amici amiche io spero che tutto quello che abbiamo fatto questa sera vi sia piaciuto io mi sono divertito ancora più del solito è veramente stato bello grazie grazie Lorenzo per averci regalato un sacco di roba in realtà e grazie a tutte le persone che ci hanno scolto per il supporto non abbiamo risposto a molte domande e non abbiamo letto molta chat perché è stata una lezione quindi non eravamo cioè era come se vi stesse passando i bigliettini a scuola cioè commenti su su quello che dice il il prof è stato molto bello io spero che l'esperimento cioè non è un esperimento l'esperimento l'abbiamo fatto questa è la non è la final form di questa cosa ed è un percorso che è appena iniziato abbiamo letteralmente parlato di quattro giochi eh ma vabbè serviva serviva beh non è che erano proprio quattro giochi eh no come dicevo abbiamo parlato quattro dipinti vabbè uno la dama con l'ermellino esattamente allora ricordiamo anche un paio di cose già che passiamo di qua seguite il canale di Lorenzo Ceccotti su Twitch che è lrnz 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 adesso qualcuno farà anche uno shout dove potete vedere Lorenzo che disegna Geist Machine il suo fumetto del quale tra l'altro è appena uscita appena uscito il primo primo numero il primo volume lo potete prendere anche in questo istante ve lo consigliamo perché è fighissimo e tra l'altro dentro si respirano alcuni dei concetti che abbiamo affrontato questa sera e se ne respirano altri che affronteremo che affronteremo in futuro in futuro senza dubbio evviva che bella cosa evviva si e succede questo un fatto misterioso che dovremmo sentirci tipo a lezione la verità mi commuovo sempre succedeva anche a lezione qualche volta però mi viene cioè quando sento l'emozione nella voce di Ceccotti che pure sta pacatissimo ma senti che dentro c'è questa cosa che premia fortissima e tu sai che è tutto vero che non c'è in nessun modo un'enfasi aggiunta no è così cioè la sentite anche voi no lì a su piccia a casa la sentite cioè quando sentite il quadrascan lo sentite è il quadrascan delle emozioni è il quadrascan delle emozioni quindi chiudiamo la drive deflection esattamente e quindi chiudiamo qua la registrazione per per youtube quindi se ci avete seguito su youtube commentate qua sotto fate like subscribe e supportate che non vi e supportate Lorenzo Ceccotti che è bellissimo che mi sta guardando in alto e sembra che tu stia guardando me se io adesso guardo giù così bello e comunque grazie per averci seguito io Kenobit lui Andrea Babic soprattutto lui Lorenzo Ceccotti avete visto Kenobisbo Aesthetics e presto tornerà grazie mille chiudiamo per youtube grazie